L'amministrazione comunale di Canna Longa ha intenzione di attuare la sottoscrizione della Carta di Matera con la Confederazione Italiana Agricoltori per lo sviluppo, la tutela e la promozione dell'agricoltura sia locale che nazionale. In occasione della festa dell'agricoltura tenutasi a Matera, dal 9 al 12 novembre 2010, è stato stipulato il documento per il futuro più agricoltura, denominato appunto Carta di Matera. Tale documento rappresenta una sintesi delle motivazioni profonde che spingono ad attribuire al settore agricolo un ruolo basilare per uno sviluppo sostenibile del territorio, valorizzandone le diverse funzioni, le nuove opportunità, i servizi e gli strumenti da mettere in atto, nonché il ruolo degli agricoltori e delle loro peculiarità. Dalle valutazioni esplicitate nel documento emerge la convinzione di pervenire ad un vero e proprio patto con il mondo dell'agricoltura italiana, con le sue funzioni produttive di salvaguardia ambientale della biodiversità, le quali perciò vanno tutelate e valorizzate con azioni politiche appropriate ed incisive, da parte delle amministrazioni locali, chiamate ad operare in sinergia con le organizzazioni degli agricoltori per il raggiungimento di obiettivi comuni. L'amministrazione comunale di Canalonga è da sempre impegnata a sostenere e valorizzare l'agricoltura, in quanto risorsa inestimabile per uno sviluppo equilibrato e sostenibile. In ragione di ciò ritieni doveroso perseguire un consistente rafforzamento di investimenti in infrastrutture e servizi innovativi, necessari a fronteggiare una pressante erosione del solo agricolo, a favore di investimenti invasivi e spesso inquinanti.